È entrata in vigore da poco la nuova normativa che regola le quarantene a scuola e già in provincia di Arezzo ci sono i primi casi. È successo a Civitella in Valdichiana dove, in seguito alla segnalazione di un caso positivo in una scuola elementare, la classe ha potuto evitare la quarantena grazie alla fattiva collaborazione tra il dirigente scolastico e la ASL, nonostante tutto sia accaduto a cavallo del fine settimana. Sì, abbiamo avuto un caso positivo in una classe della primaria, quindi è scattato il nuovo protocollo. Questo ci ha permesso di gestire con rapidità il caso e quindi domenica mattina tutti i bambini della classe hanno fatto questo famoso T0, quindi il tampone nel più breve tempo possibile, come indica la circolare, e stamattina sono felicemente rientrati tutti a scuola, ad eccezione di uno, dopo aver fatto il tampone ed essere risultati negativi. Quindi questo ha fatto sì che i bambini non perdessero attività didattiche e che le famiglie e le mamme potessero andare al lavoro sereni, questo anche per salvaguardare le famiglie. Questo è stato possibile anche in base alla disponibilità della ASL, perché l'apertura di una seduta al drive di Arezzo è stata in collaborazione con il dottor Buccino, che devo dire si è speso proprio per aiutarci a mettere in atto questo protocollo, proprio nel momento di transizione. Nel giorno che arrivava la nota, da oggi siamo esecutivi, è arrivata anche la comunicazione del positivo, che è stata gestita appunto in estrema rapidità. Si sono presentate tutte le famiglie a questo appuntamento? Purtroppo no, la maggioranza, la stragrande maggioranza sì, una famiglia non si è presentata, il bambino quindi non ha fatto il tampone, e a quel punto la ASL ha emesso un provvedimento di quarantena, poiché i bambini senza il tampone non possono rientrare a scuola. Questa è un'opportunità che noi offriamo, che la ASL e la nuova norma prevede, ma chiaramente se le famiglie non fanno il tampone, il bambino non può rientrare a scuola. Dovranno fare questo famoso T5 adesso? Adesso, mercoledì, abbiamo di nuovo concordato con la ASL che verrà fatto il T5, quindi il tampone di controllo, e i bambini, se tutti negativi, e noi ce lo auguriamo a questo punto, rientreranno a scuola, avranno attraversato la prima non quarantena di una classe. Questo è stato veramente una bella soddisfazione. Solo in caso di un altro o altri due studenti positivi si sarebbe a quel punto valutata la quarantena per tutta la classe. Ovviamente qui siamo nella scuola primaria, quindi non c'è la distinzione vaccinati, non vaccinati. Se ci fosse stato un secondo caso positivo avremmo dovuto esaminare attentamente la situazione e valutare a quel punto un'eventuale quarantena della classe. Però, ringraziando la scienza, questo non è accaduto, quindi i ragazzi sono rientrati tutti. Nella scuola secondaria, ad esempio in una situazione analoga, abbiamo assistito a una differenziazione delle quarantene. I ragazzi vaccinati hanno fatto sette giorni di quarantena, i ragazzi non vaccinati invece ne hanno fatti dieci, con obbligo ovviamente del tampone al termine. Grazie. Grazie.